Se l'accusa tentano di incendiare il chiosco con bidone infiammabile e poi scappano arrestati due malviventi. A seguito di un rafforzamento dei servizi di prevenzione voluto dal questore Benedetto Sanna per arginare una recrudescenza dei reati contro il patrimonio che hanno attestato l'attenzione dell'opinione pubblica agente della squadra mobile impegnati in tali servizi hanno arrestato due uomini rispettivamente di 32 e di 50 anni entrambi già conosciute dalla forza di polizia per il reato di danneggiamento, tentato di incendio e porto di oggetti atti ad offendere. In specie il 32enne è stato bloccato dagli uomini diretto dal dottor Presti in via Sanlio di Cassibile dopo che alla vista dei poliziotti tentava di fuggire. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile di arnesi atti allo scasso. Contestualmente giungeva con la propria autovettura il cinquantenne che veniva anche lì controllato e trovato in possesso di un bidone contenente liquido infiammabile. Le indagini avviate nella immediatezza dei fatti hanno consentito di accertare che i due poco prima in via della Madonna avevano tentato di incendiare un chiosco di rivendita di frutta desistendo dal porre in essere tutto il loro intento criminoso per causa ancora il vaglio degli investigatori.